Stamattina lei a San Giacomo ha avuto una visita e è venuto il Ministro Orlando. Ci puoi dire di cosa avete parlato? Sì, stamattina ho avuto un lungo incontro con il Ministro della Giustizia che mi ha chiesto di incontrarmi. L'ho ospitato molto volentieri a Palazzo San Giacomo. Siamo stati un'ora a parlare. Abbiamo parlato di tante cose. Credo che nell'ottica di un confronto istituzionale e politico importante, in un momento difficile per la città e per il Paese. Avete parlato di sicurezza? Un po' di temi? Un'ora parli di tutto. Abbiamo parlato della città, di quello che si sta facendo, dei rapporti tra il governo della città di Napoli e il governo nazionale, di come è migliorato negli ultimi tempi, dei rapporti anche tra la nostra maggioranza e il Partito Democratico, i scenari nazionali. Abbiamo fatto una lunga chiacchierata con un interlocutore che ho trovato attento nei confronti della città e anche dell'esperienza che si sta realizzando nella città di Napoli. Un confronto che ho trovato importante. Io lo sto dicendo, in questi mesi c'è un confronto istituzionale molto positivo col governo, ma non ancora sufficiente. Venerdì è un passaggio per noi molto importante, non tanto e non solo l'incontro su Bagnoli, perché Bagnoli ormai l'intesa è fatta, si deve solo attuare l'intesa. Io mi auguro di poter incontrare ai margini, prima o dopo, il Presidente del Consiglio, perché se non si ha una svolta sul rapporto tra governo nazionale e enti locali, in particolare gli enti locali del Mezzogiorno, non ci potrà mai essere una svolta veramente importante nei rapporti tra il governo della città di Napoli e il governo nazionale. Quindi siccome noi aneliamo alla migliore cooperazione istituzionale possibile nell'interesse dei nostri territori, stiamo lavorando da molti mesi perché accanto al miglioramento netto dei rapporti col governo ci possa stare una svolta definitiva che segnerebbe sicuramente un passaggio importante per la città, ma io dico per il Paese, perché ormai è sotto gli occhi di tutti che il ruolo di Napoli è un ruolo strategico, non solo per la città, ma sicuramente per il Mediterraneo, per il Mezzogiorno e quindi per il Paese.